La pandemia rischia di inaspirire le già attese relazioni tra le ONG che operano nel Mediterraneo e le autorità e di riaccendere il dibattito nazionale sui migranti. Giovedì un membro dell'equipaggio della Sea-Watch 3 è stato testato per il Covid-19 sul molo principale di Porto Empedocle. Qualche giorno prima, a bordo della nave, aveva partecipato al salvataggio di 28 migranti che poi erano risultati positivi al virus. Così, il dibattito sulla sicurezza e sull'efficacia dei protocolli e delle misure di contenimento va avanti. La Croce Rossa italiana è responsabile delle operazioni sanitarie a bordo della nave fornita dal governo dove i migranti soccorsi dalle varie imbarcazioni trascorrono il loro periodo di quarantena. Tre ponti designati all'accoglienza delle persone sono considerate zona rossa. Questo per noi vuol dire applicare al massimo tutte le misure di protezione in base a diversi gruppi in barco, quindi gruppi evento, vengono separati. L'opposizione, a partire da Salvini, è tornata alla carica su un tema che era stato al centro dell'agenda del governo giallo-verde. Gli abitanti del posto non nascondono la loro preoccupazione per gli ultimi sviluppi. Tengo paura di questi. Vanno a prendere, portano qua, potrebbero non evitare a noi. Ora eravamo arrivati, mi pare, o a due o addirittura a zero, quindi ci sentivamo un po' liberi. Questa notizia ci ha preoccupati. Può arrivare anche tramite turisti, solo che i turisti ti portano un introito, e poi i migrati ti portano quasi un problema per te. La preoccupazione dei cittadini di Porto Empedocle si riflette nelle parole del sindaco. Tutti sono un po' allarmati, c'è un grande allarme sociale, ma noi non possiamo pagare per tutti. Se dovesse succedere qualcosa qua, qualcuno ha una gravissima responsabilità. L'emergenza Covid-19 ha quindi coinciso con il momento in cui gli sbarchi stavano riprendendo in Italia, diversamente dal periodo di Salvini. Ma questa resta soprattutto una questione europea e la soluzione dipende dalla volontà degli stati membri. Giorgia Orlandi per Euronews Porto Empedocle. Grazie.